Buongiorno a tutti, mi dispiace, mi dispiace, aspetta, si è meglio, mi dispiace prima per il mio italiano, il powerpoint è in francese, ma vado a parlare in italiano, spero che mi capirete. Mi chiamo Romain Bouchot, sono il coordinatore della rete geomatica della regione PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, lavoro per questa struttura di dati geografica, credo si dice come questa. In prima grazie all'associazione Open Geodata italiana e principalmente Giovanni e Paolo per avermi dato anche la possibilità di fare questo piccolo intervento. E' più di ascoltarvi oggi e di meglio conoscere e capire tutte le vostre azioni in questa sfera dell'Open Geodata. Posso darvi un ritorno veloce e modesto sull'Open Geodata in Francia e l'informazione geografica. Allora, l'Open Data in Francia in 5 punti con alcuni aspetti e problematiche già visti questa mattina e spesso la stessa cosa sui due paesi. Allora, non so se per fortuna o non, ma sempre la stessa cosa. Per l'inizio il contesto francese dell'Open Data, più l'informazione geografica nel movimento Open Data. Il ruolo delle infrastrutture di data geografica e per un slide per azione e finendo le iniziative in corso. Allora, il contesto francese dell'Open Data è un movimento recente, tre anni, come in Italia, credo che forse la stessa anno, portato da una sfera di influenza associativa, in prima, cittadina e cittadina, la FING, Libertique, OSM, abbiamo visto questa mattina, e dopo sengudi da iniziative politiche delle collettività in Francia, in prima città e area metropolitana, più dipartimenti e ancora regioni. un'ottica di trasparenza della vita pubblica e di democrazia partecipativa, accompagnata da un'azione un po' specifica in Francia, perché è uno stato centralizzato, un'azione della Commissione dell'Estato, apertura all'inizio del 2011 del portone nazionale data.gouv.fr, condotto per Etalab. Etalab è un servizio di rettamento sotto il primo ministro. ha dimenticato di... mi dispiace. per più tardi avete con le immagini, io sono anche l'iperlink per andare sulle siti web di tutte queste organizzazioni, anche un link per vedere anche, non abbiamo il tempo, ma questa qui, una video sulla vulgarizzazione dell'open data, una minuta e su Youtube. ma è più... allora, in Francia, la carta dei Portuni Open Data, il contesto francese dell'open data in in prima città, come Rennes, questa, Rennes, Parigi, Nantes, Montpellier, e oggi a livello della regione sempre l'Aquitaine, e Provence al Côte d'Azur, hanno relazioni differenti tra l'informazione del personaggio grafico e l'open data. Lo vedremo in ogni minuti. Sì. Sì? Sì. Sì. Non troppo. Allora. Questo... No. Queste... sono di data forte potenziale, abbiamo visto ancora questa mattina, dal numero e la diversità delle persone interessate, sì, dalle prospettive di valorizzazione economica del loro interesse cittadino, ci sono degli obbligatori, obbligatori, tecnici, tecnici più forti che per dati letterali, infrastrutture, video-asiliazione, distribuzione, da calibrare, arnesi di trattamenti specifici, specifici, mi dispiace, e spesso c'è un divario tra la decisione politica e l'avviamento. il ruolo del SDI, SDI, dici in italiano, SDI, o infrastrutture di... Sì, SDI. In Francia le SDI sono regruppato una rete animata dalla FIGIO, e questa è una carta. Per più di informazioni sulle SDI francesi, avete ancora qui un link, credo qui, sì, e direttamente sulla pagina dove ci sono due posteri in francese e in inglese che danno molti dettagli. o anche... sì, abbiamo fatto, credo, la conferenza INSPIRE del scorso anno. Allora, le osservazioni della rete nazionale arrivano alle seguenti conclusioni. Consigliare attesa politica e avviamento tecnico, tenere conto dell'evoluzione degli utenti di più e diversi numeri, integrazione della problematica open data nell'infrastruttura, e sulla parte tecnica adattamento dei geoportoni locali, osservazioni sulle relazioni INSPIRE e open data, metadata, web services, condizioni di accesso ai dati, sulla parte giuridica, sì, parte giuridica, ricerca di licenze adatte, mi dispiace. In Francia, da 2011, con Etalab abbiamo una open license, questo è il logo, se open license riprende la ODBL e l'APIU, visto questa mattina, e attuare dei clausoli speciali nei mercati pubblici di produzione, per avere data in open license, e sulla parte animazione, informazione dei partner e utenti del SDI, e auto tecnica alla realizzazione nella organizzazione FEE, nella struttura INSPIRE, WW3C, UGC, open data. Allora, come siamo oggi molto in ritardo, non faccio della provocazione parlando della geografia della Francia e della regione PACA, è una regione importante per la superficie, la popolazione e il peso economico in Francia è ovviamente la più bella. In Francia? In Francia. L'informazione geografica è open data in Provencia, una rete, si una, femminile, una rete geomatica antica, 20 anni, e la prima SDI di Francia creata nel 2002, il CRIJ, Centro Regionale dell'Informazione Geografica, una rete di più, sì, una rete di più 1500 strutture e 3000 utenti, non so come si dice tematic cluster, puoi dire polymesteri, perché c'è una tematic cluster e all'interiore ci sono 30 gruppi di lavoro. Discipline? Discipline, sì. Discipline, sì. E sì, 500 partecipanti attivi. Questa rappresenta 40 incontri per anno, e, evidentemente, un geoportuno Inspire compatibile, compatibile. non do troppo di dettagli su CRIJ, ma, volete più di informazioni, una decina di, come si dice, o pusculo, se vuoi, si, mi dispaccio, sono solamente in francese e in anglese. Allora, il sotto, è finito, allora. Progetto intorno all'open data, negozioni sulla apertura dei dati dei produttori nazionali, IGN, SHOM, BRGM, Opertura dei dati produttori in regione, come l'ITO 3D, questa, la batimetrie, non so come si dice, batimetrie, ortofotografie, a 10 o 20 cm, per esempio. E, questa è l'occupazione del suolo. un'articolazione con il portone open data del consiglio regionale e delle collettività, perché in PACA, è un caso particolare, c'è una portone open data partenaria, con tutte le città, e per la geografia, l'informazione geografia, e il sito del CRIJ, le SDI, e le due comunica, comitati? Si. Per esempio. Si. E anche, autotecnico, all'apportura dei dati geografica, giornata di informazione laboratori, guida sulle licenze, differente tipo di licenze, controllo dei mercati pubblici di ordine di dati, partenariato con le strutture di promozione dell'open data, come la FING e l'etalab, istituzionale, e progetti pilota, relazioni dati istituzionali, e dati OSM, per esempio, l'uso dell'open data in MP 2013, 2013, e Marcia, perché è la capitale europea della cultura, questo anno, è una buona elevazione per noi, per le tecniche, le tecniche sul politico. Si. E per finire, le iniziative in corso, e anche dove il CRIG partecipa, a livello nazionale, il gruppo di lavoro OGG, Open Data France, due riunioni con la FIGEO, e un luogo di dialogo tra attori della sfera open data e attori della geomatica, piattaforme di mutualizzazione soprattutto, e anche numerose conferenze nazionali, per esempio, in 2012, nel scorso anno, gli incontri, esige la lettera, e l'appuntamento nazionale annuale dei professionalisti della geomatica, con un'attenzione tecnica sull'open data in Kranzos, crowdsourcing, le algeomatiche a Lyon, giornata di scambio organizzata della FIGEO Liberti OGC, e la miliogeomatiche, per esempio, a Osh, una vicina città di Toulouse, in sud, giornata tecnica organizzata dell'IDG della regione Midi-Pirennese, sulle link tra open data e informazione geografica. E il livello europeo, per esempio, oggi come oggi, oggi come oggi, si, in questo momento, si, progetto europeo, alla fine di maggio 2013, un grande progetto PSP, e un importante appello per progetto lanciato nel quadro della Commissione Europea, sui legami tra open data e informazione geografica, se di struttura sono interessanti per lavorare in questo tipo di progetto, poi parlare più tardi alla fine della conferenza. grazie mille, e ancora una volta, grazie mille per il vostro ascolto, la vostra ricezione, come si dice, e soprattutto la vostra in urgenza per il mio italiano. grazie mille.